L'indice di liquidità è allo stato attuale il parametro che mancherebbe al Teramo per procedere all'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro. C'è tempo fino alle 24 di questa sera e la somma che mancherebbe per ripianare una situazione che allo stato attuale sarebbe oltre i limiti consentiti dopo il calcolo che viene fatto sulla base della situazione patrimoniale al 31 marzo 2022 è alta. La svolta tuttavia c'è stata questa mattina perché il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato in via cautelare dalla Federcalcio contro la decisione del Collegio di Garanzia del CONI sull'applicazione dell'indice per le società. L'indice in questione corrisponde al livello di liquidità effettiva dell'impresa, permette quindi di valutare la capacità dell'azienda stessa di rispettare le scadenze di natura fiscale a breve termine. L'indice in questione corrisponde al livello di liquidità effettiva dell'impresa. Questo, nonostante sia un ricorso presentato dalla Lega di Serie A contro la Federcalcio, potrebbe avere delle ricadute anche sulle categorie minori, ammesso che comunque la FIGC non possa continuare la battaglia legale spostandola sul Consiglio di Stato secondo grado della giustizia amministrativa. Nel frattempo, tuttavia, per la Lega di A l'indice di liquidità non sarebbe un parametro per la partecipazione al massimo campionato di calcio. Visto che è un ostacolo per la presentazione della domanda, il Teramo avrebbe una strada, complicata sì, ma percorribile, ovvero quello di tentare in ogni caso di inoltrare la documentazione corredata dalle liberatorie tramite autocertificazione dopo il saldo delle spettanze ai tesserati di aprile e maggio effettuato ieri mattina e che ha consentito di mettere a posto una delle parti che ancora non erano in regola. Ieri pomeriggio, poi, la decisione del Tribunale che ha rigettato la palla nel campo del socio di minoranza Franco Iachini a cui era stato dato il compito di assicurare la fiduzione per l'iscrizione e che aveva suscitato la reazione da parte dell'ex presidente Biancorosso. Nella serata di ieri e nelle prime ore di questa ennesima mattinata infuocata, altra serie di telefonate incontri per cercare di capire quanti margini ci sono ancora. Ora si apre questo spiraglio per effetto del ricorso di una lega diversa, ma che potrebbe fare giurisprudenza per le serie minori. La somma per riportare l'indice di liquidità è importante, ma potrebbe non essere più cogente, almeno allo stato attuale. L'ipotesi sarebbe quella di presentare la domanda e scommettere sul fatto che anche in Serie C quel parametro venga depennato. Il Teramo non sarebbe peraltro l'unica in questa situazione, ma è un'ipotesi come tante in questi giorni di giugno. Tra qualche ora però il tempo delle ipotesi sarà definitivamente tramontato.